di quello che è il tipo di mercato insomma e poi ovviamente la storica d'olio a lei e la Pagliassu che è il nostro sponsor sempre per questa movimentata tournée musicale e poi diciamo anche un grazie al DJ Nino che è un po' pronto agli stati di partenza ci sono tutti nei ragazzi ci chiamo, ci chiamo e poi ovviamente ha la grande abilità di Joe Squido e poi sono buoni seguitemi sempre continuiamo ora che negli anni scanta ci sono ancora ci sono ancora come scritto come attitudine quindi continuiamo ora canale Sky812 24 ore 34 il giro per il mondo e poi ovviamente anche cos'è che dico il bel l'infero del sole anzi non gliel'ero dimenticato l'infero del sole l'avete capito l'avete preso e poi ringraziamo voi che ci avete sempre super super